Tentativo numero 17. Ho fallito ancora. Come da manuale, ho rispettato gli orari in pieno. Non era ancora giorno quando ho iniziato l'oppostamento. Ma qualcosa... non ha funzionato. Io so quello che ti sta succedendo. È il mio lavoro. Quando smetti di bere, la mente può giocarti dei brutti scherzi. È pericoloso! Io vedo cose... che... che non esistono. Ma non so se riuscirò a rimanere pulito. Per otto ore. Tu vuoi aiutarmi, giusto? C'è soltanto una persona a questo mondo che voglio vedere soffrire. Ed è l'uomo che abita dall'altra parte della strada. Ehi! Puoi venire fuori un secondo? Ti devo parlare! Che cosa può averti fatto per l'uomo per meritarsi questo? Devo assolutamente chiudere i conti! Devo ambozzarlo! Vuoi smettere di bere? Lo vuoi davvero? Sì. Ma se pensi che questo cambi le mie intenzioni, tu ti stai completamente sbagliato. è stato male. anche se... Grazie a tutti.